Tu hai detto, alla fine di questa clip, insomma, lei si fa portavoce di tutte le battaglie di sto mondo, anche Basta. Beh, ma non è che possiamo essere tutti, vogliamo insegnare a tutti e a tutti, insomma. Lei conduceva i fatti vostri. È giusto dare, su certe cose sì, però non è che, se no, su ogni cosa si fa... Adriana, ti senti un po' grillo parlante? Allora, a me piace parlare, cioè abbiamo tantissimo tempo, non abbiamo la televisione, non abbiamo il telefono, non abbiamo nessun input dall'esterno, quindi dobbiamo essere noi che ci conosciamo e creiamo delle situazioni. Allora, siamo qua da tre settimane, io ho parlato con tutte, cioè ognuna di loro e ognuno di voi mi ha raccontato qualcosa, un pezzo di vita, un pezzo di storia. Lei no, perché? Non mi ha chiesto niente, io le ho fatto domande, le ho chiesto chi è il suo marito, dove vive, come fa, cosa fanno, la bambina, cioè le ho chiesto delle cose e lei mi ha risposto, ma lei non mi chiede niente, io che cosa le racconto, la vita mia. Ma non è vero, io non mi ricordo che tu mi hai fatto delle domande. Ma certo, mi hai detto che tuo marito è nato in Svizzera, che lavora in Francia, è la bambina, otto anni, è questa, è la sera che voi abbracciate, poi è il papà e lui c'è soltanto in estate, altrimenti viene il weekend. Ma io ti ho chiesto delle domande e mi hai risposto. Certo, se tu non mi chiedi niente, penso non ti interessi, non è che ti vengo a rompere le salle.